benvenuti ragazzi sul canale pg passione games oggi ero indeciso se presentarmi con il weekly oppure saltare il turno però ho detto ragazzi cerchiamo di essere presenti magari parlando un attimino di fare due chiacchiere così ad ampio ad ampio raggio perché bene o male il weekly del faccione è una sorta di raffronto del canale con gli amici del canale stesso quelli più stretti anche se ultimamente sto vedendo e mi compiace questa cosa che i video tra i quali anche il weekly vengono seguiti più del solito ovviamente si parla di numeri contenuti non si parla di numeri come paragonabili a altri canali ma comunque nel piccolo insomma sono soddisfatto di quello che è di quello che sono gli ultimi weekly e soprattutto anche gli ultimi l'ultime serie allora mandiamo l'onda la sigla e poi facciamo un pochino questa ragionata questa chiacchierata a lungo raggio vai con la sigla ci vediamo dopo vai allora sigla velocissima come sarà veloce anche questo week queste questa breve chiacchierata allora la settimana come è andata questa settimana è stata una settimana positiva soprattutto per le serie che che diciamo che sto portando e soprattutto per mafia 3 i due episodi quello del lunedì e quello del venerdì quindi all'inizio della settimana e alla fine della settimana sono andati decisamente bene come numeri ma così come è andato bene anche la settimana precedente e sono contento vuol dire che il diciamo la serie è apprezzata il sottoscritto non fa figurete come il suo solito ma porta un contenuto discreto e che ha sempre ovviamente nell'ottima del canale una discreta un discreto seguito e io su questo sono molto contento sono contento anche di come sta andando la serie con fifa 23 uno perché appunto diciamo il suo zoccolo duro di seguaci c'è sempre due perché appunto ho portato sul canale anche amici tipo gabriele che ringrazio e saluto e che magari così hanno portato un po di curiosità al allo spettatore che di solito vede quei video la carriera mi sta piacendo non solo perché sono testa non è per quello perché bene o male anche se ero a metà classifica però avevo un gioco e vedevo un gioco sinceramente mi sarebbe piaciuto uguale ovviamente essendo in cima ora anche se siamo più in difficoltà ma insomma credo che poi alla lunga diciamo la la vittoria arriverà però diciamo che perdonatemi se io santo diciamo oggi sono un pochino un tortellato quindi tortellato significa tradotto dal toscano all'italiano perché alcuni amici mi hanno detto traduci cosa significa intortellato vuol dire un po stanco un po ho parlato a un convegno una marea e quindi ora mi sono messo a fare il video devo riparlare e mi entortello un po questo significa intortellato però detto questo diciamo la settimana è andata mi dispiace solo di portare e ho visto che con quello di giovedì il numero di visualizzazione è calato ma ragazzi non ho modo di portare più video al giorno anzi lo dico sto trovando un po di difficoltà perché devo registrare i video tutti in un contesto in una giornata perché durante la settimana arrivo molto tardi dal lavoro perlomeno arriva un orario in cui poi tra la doccia e preparassi e giochi a col cane eccetera e poi ci rimane veramente poco tempo quindi questa settimana sono riuscito la prossima dovrei riuscirci a postare però ovviamente più di un video al giorno dubito che io ce la faccia ripeto sto trovando di fiorità anche a portare uno giorno però ci riesco per il momento e mi dispiace che la serie su atomic hard che ripeto ha avuto un discreto successo dei primi due episodi con il terzo ha trovato una ha fatto botta perché ovviamente da una settimana all'altra un episodio solo lo capisco e lo capisco però infatti ora sto valutando come comportarmi anche perché il gioco non è malaccio però volevo come vi avevo detto portare di nuovo la scuderia pg passione games in pista con formula formula 2022 che da la settimana scorsa è disponibile sul game pass tramite appunto il rilascio tra virgolette gratuito di esports quindi però non riesco a far tutto addirittura vorrei portare rispolverare il volante fare il gran premio col volante ma è tutto non riesco a fare quindi ragazzi gioco forza qualcosa ne risentirà la serie su mafia 3 la porteremo avanti cercherò di portarla più lontano possibile però il resto lo vediamo così come anche anche il discorso di fifa questo questo chiaramente questo chiaramente sì poi tra poco usciranno come vi ho un pochino introdotto la settimana scorsa a proposito di grazie a tutti quelli che hanno visto il canale la settimana scorsa vi incominceranno a venire altri giochi sul catalogo molto ricco di marzo di game pass e quindi oggettivamente vedrò cosa posso cosa posso fare e comunque questo è un pochino quanto è stata la settimana scorsa anche diciamo l'evento di inaugurazione di un altro canale gestito in parte da me ma con gli altri due amici che ho conosciuto sul web qualche qualche tempo fa e che con i quali poi sostanzialmente abbiamo continuato una sorta di collaborazione creando prima la community games con vincenzo alias corvo bianco 22 e avendo una collaborazione in quelle diciamo le ultime live che ho fatto che lì non sono più riuscito andare in live nessun canale youtube né tanto meno quello su twitch dove tra le altre cose mi ero comportato anche molto bene è vero che abbiamo superato i 6 mila follower mi si avvicinava anche addirittura a quasi alle 7 mila fuori cosa che non credevo però ragazzi o faccio l'uno o faccio l'altro però appunto matteo alias ex maestro di fifa adesso traide di verona è conosciuto appunto sul sulla piattaforma viola se so è sorta una sorta di e si è creata una sorta di collaborazione che poi è andata diciamo a concludersi in questo progetto della fabio tv è un progetto che non so dove può arrivare io certamente in quel canale posterò sotto trovate il collegamento se vi fa piacere andate e mettete un like trovate anche i collegamenti degli altri due canali degli amici quello di corvo bianco e quello del trade di verona uno che ha sia youtube che twitch corvo bianco 22 mentre solo twitch perché lui ormai a quel tipo di pubblico il trade di verona c'è matteo però dicevo in questo canale cercheremo cercheremo di portare qualche live sicuramente parleremo di calcio parleremo di tutto avete visto uno dei video che ho postato se non sbaglio domenica è stata un'avventura all'orto botanico di pisa ma diciamo che lo scopo di e di portare su quel canale ciò che non viene portato sul canale pg passone games lo so che è molto difficile perché se non riesce a gestire un canale figurati due canali o per virgolette 3 perché twitch è comunque un altro canale anche se si chiama pg passone games però ovviamente lì ci possiamo mettere tutta una serie di cose che magari di serie di quindi affrontare argomenti che di là non le affrontiamo non so la programmazione ora credo di poter dire che faremo anche una pagina facebook del della fabio tv così come faremo anche una pagina instagram della fabio tv ma comunque tanto poi tutto questo che ci vuole un po di tempo perché ripeto non siamo né io né matteo né vincenzo degli streamer ufficiali e professionisti quindi non facciamo lavoro questo ne facciamo altri e quindi gioco forza non non possiamo non possiamo altro che andare al rilento e proporre le cose magari con i nostri tempi quindi ci sta che una settimana sulla fabio tv ci sia nemmeno un video oppure ci sta che magari ce ne siano due o delle live detto questo cosa succederà intanto al canale pg passone games che io ritengo sempre il canale principale niente al canale pg passone games non succederà niente anzi io ho visto che con queste nuove serie abbiamo acquisito nuovi nuovi iscritti ripeto sempre nell'ottica della della grandezza del canale ma comunque abbiamo acquisito una trentina di nuovi iscritti in quest'ultimo mese e veramente fa piacere per il semplice motivo che vuol dire che abbiamo portato dei contenuti che pur avendoci il tempo molto limitato avete visto no ora io cerco di registrare i video in in un tempo come posso dire uno dietro l'altro quasi ve l'accorgete dal vestiario in cui mi presento e quindi oggi è sabato ho registrato qualche giorno prima il week registrerò il video di di domenica però ecco i contenuti soprattutto anche grazie a le nuove attrezzature al quale ovviamente non potevo fare almeno ad esempio lo stesso microfono ci hanno permesso un attimino di essere un pochino più diciamo gradevoli e da lì secondo me il numero degli iscritti è cresciuto non siamo ancora ovviamente a livello della monetizzazione ma come sapete è venuto più volte a me non interessa quello interessa averci un seguito di ragazzi che magari come posso dire hanno il piacere di vedere le geste del faccione magari su fifa magari su 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 mafia o altre serie che appunto nei rivieni ci saranno così come mi farebbe piacere che gli stessi numero di spettatori poi saranno presenti sulla famiglia ma ma anche lì ovviamente senza averci il pingolo pingolo dal toscano tradotto all'italiano perché giustamente ad esempio matteo ha detto traduci perché non si capisce pingolo vuol dire luggia cioè averci la l'ossessione di arrivare a certi traguardi a me per quanto riguarda me non ci sono che dire ragazzi io oggi volevo fare proprio due chiacchiere così perché sostanzialmente quello che dovevamo dire nel weekly la settimana scorsa l'abbiamo detto cioè di nuovi giochi la settimana prossima vedremo cosa faremo cosa porteremo al weekly però come vi ho detto intanto la settimana prossima lunedì e venerdì ci saranno i due i due episodi già registrati quindi già messi in programmazione ci saranno si deve vedranno delle belle quindi vi invito a andarla a vedere valutiamo valutiamo se giovedì ci sarà atomic art se ci saranno lo so se sarà posto posto un altro episodio magari di mafia 3 quindi sarebbero tre in una settimana oppure incomincieremo l'avventura con fi con formula 1 non lo so questo magari ci devo un po pensare perché no perché giovedì non ho avuto i numeri che mi aspettavo su atomic no assolutamente no ma perché capisco bene che un episodio alla settimana in questo contesto è poco quindi lo spettatore lo deve invogliare ad essere più presente se magari vi piace una serie presentando un video con meno diciamo intervalli tempo troppo cioè con intervalli tempo non troppo lungo quindi con più con più video magari la settimana e appunto ritornando al discorso che ho detto prima è un ciafo un diafo via la fuori bene ragazzi io direi di chiudere qui questa chiacchierata è 13 minuti quindi siamo 13 15 minuti siamo siamo rientrati nel range della normalità io vi saluto vi do appuntamento domani con il solito episodio della settimana dell'analisi della settimana di football non è successo nulla praticamente quindi ma questo lo sapete di già ma insomma non lo facciamo vediamo quello che che sostanzialmente sono stati i nuovi giocatori prodotti parleremo un pochino ma insomma domani alle 10 ci sarà questo video e poi e poi niente tutta la programmazione della settimana prossima che ripeto settimana prossima riuscirò ho solo l'unico dubbio giovedì cosa portare se riportare ancora tomico oppure no vediamo io vi saluto e sottotrovate tutti i collegamenti dalla fabio tv alla pagina facebook del canale pg ripeto canale pg principale canale poi la fabio tv viene di conseguenza insieme agli amici è un'avventura con i due amici due tre perché non so se poi si 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 unirà anche gabriele ovviamente è sempre ben accetto io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime ciao